ciao elena siamo qui per valter ciao 5 4 3 2 1 sì allora la cosa che che mi fa vedere walter e lui mi fa vedere una fotografia di come era prima la prima della prima sessione ok quindi c'è lui e lui era tutto nero con uno sfondo nero quindi il quadrato della fotografia tutto nero no e mi fa vedere la fotografia di come adesso quindi è tutto bianco però mi dice sì il fondo bianco lui anche lui è normale diciamo sì è normale ma diciamo che in eterico appare bianco no rispetto a prima che era un po nero e mi dice però non so cosa farmene ok quindi vorrei capire cosa fa dove andare ora walter ti dà l'autorizzazione con questa cosa qua walter una persona molto interessante questa è una sessione molto interessante segue tanti video fa tanti commenti ai video lì e omaggia anche diciamo detto questo vediamo la vibrazione di walter 9 miliardi consapevolezza 143 ps 42 dite 1973 il cervello 9.4 suscettibilità ipnotica nuovo valore quanto walter è portato a andare in ipnosi da solo in questo momento 85 per cento ok secondo te con te la minima percentuale per riuscire a portare a casa una buona sessione 65 70 per cento e una decente sessione 80 no meno dove poi possono vedere al 50 secondo me monica visto anche il 40 siamo lì insomma va bene entità e che vediamo sono molto curioso di vedere cosa c'è allora c'è questa donna appare questa donna che questa donna umano ed è nel senso l'immagine di una donna con i capelli lunghi verdi verde acqua è molto evidente che c'è palese che è un ologramma ed è collegata al secondo universo ok allora quello che posso vedere che è collegata direi a tutto quattro figure principali sono sono ancora padre pio sono moloch satana e lucifero tutti e quattro come se ci fosse la proiezione di tutti e quattro in questo ologramma donna ok e lei è quella che cerca in tutti i modi di tenere agganciato walter no quindi di incitarlo a fare un patto con loro perché da donna perché è meglio che padre pio è più appare più gentile diciamo con le sue con le sue paure lei appare più gentile quindi più no a più facendo l'ologramma da donna e come si usa cerchi esatto come se cercassero di usare l'energia femminile no più si chiama come si chiama si chiama nadine poi poi c'è un serpente c'è un serpente che continua a girare la spirale è messo a spirale continua a girare su se stesso quindi ogni volta che finisce il giro con la bocca diretta verso walter tira fuori la lingua fa riparte il giro tira fuori la lingua questo è quello che tiene vive le paure di walter quindi la paura sociale principalmente no quindi la paura della maniera di persecuzione e anche la sua tendenza a non reagire per paura di farsi del male poi queste due sono tornate questi due mentali voglio dire una cosa quella del secondo universo è cambiata rispetto a quelle che aveva prima della prima sessione ok ma come se si fossero agganciati alla sua passione di ascoltare musical rock ok da che hanno ottenuto quell'energia lì per è la stessa tipo di interferenza no quindi si sono ria con le ricollegate alle sue alla sua interferenza che aveva prima con la musica al rock ok se collegando diciamo il tipo di interferenza è la stessa ma non potendo più interferire attraverso la musica o direttamente lo fanno attraverso questa donna che cerca di portarti incitarlo a fare un patto con loro ok l'effetto che hanno non è lui che fa il patto perché non ci sta ma abbassano la vibrazione per la paura mentali allora ce ne sono tre allora una paura del controllo la chiamerei è proprio come se alter fosse in mezzo ok e si sente circondato da questo è una specie di bordo rigido no come se fosse un cerchio un disco rigido bianco che ovunque lui si gira è lì presente che quindi se la grande cintura se lui ci va contro si fa male quindi tiene sempre una certa distanza ok quindi questa è la paura del controllo su di lui che non lo fa agire nella vita livello un 45 diciamo quando è a casa è più sul 4 perché l'idea no quando esce invece 5 è più la sente più concreta e poi c'è corda dell'abisso questo è più livello anche 7 come se lui fosse agganciato questa corda che è appesa diciamo al terreno no alla superficie al terreno e c'è questo buco questo tunnel che va nella profondità che tutto nero e c'è questa corda a cui lui è agganciato che se si lascia andare cade direttamente nell'abisso ok quindi questa è quello che lega che lavora insieme alla all'entità del secondo universo ok che è proprio la paura del diciamo dell'inferno post morte e poi ce n'è una livello 7 c'è una più bassa 3 che è un po più questa quest'idea di di trovare fuori solo situazioni pericolose nel senso pericolose come lui le sente pericolose no che possano creare dolore fisico su di lui no quindi è più proprio questa è come posso chiamarsi vittime carnefice ecco non mi veniva la parola ma mi arriva ok quella di livello 3 vittime carnefice quindi che lui venga usato che appaia esternamente fragile vulnerabile e che quindi venga scaricato su di lui l'aggressività impianti se ci sono queste specie di tre spade solo la lama ok con la punta rivolta verso la sua testa ok e poi escono all'esterno questo è l'impianto mentale che viene utilizzato dalle entità mentali e quando devono creare un pensiero di questo tipo ok per non farlo muovere come se accendessero una di queste spade e a lui gli si crea il pensiero nella mente e poi ci sono tipo come se fossero delle scarpe di metallo ok ai piedi che qua che come se lo immobilizzassero sono talmente pesanti che lo immobilizzano quindi anche a livello fisico non non si può muovere non poi l'esterno nome del progetto una hop di tenuta come se fosse mantenuto da tutte queste sue interferenze ok in uno spazio ben ristretto dove lui non si può muovere è il fatto che lui senta le voci è semplicemente la sua capacità di percepire ciò che succede nelle altre dimensioni ok e di solito questo segno di grande capacità medianica la sua ps ha deciso di crearle delle interferenze molto pesanti a livello mentale ok prima magari con la musica e con altro e poi adesso con la paura di quei ricordi no quindi prima pensava di sentire le voci quindi era considerato matto adesso la paura di sentire le voci no ma in realtà è la sua capacità collegarsi con gli altri piani e quindi lui era in grado di sentire le interferenze proprio esattamente quello che volevano fare capacità mediani che aveva virgola 4 non è uno scherzo è il nome della ps 9 però la ps giglio mi sa vedere proprio che continua ad aprirsi quindi proprio segue il ciclo naturale del fiore no e la pm viene corazza proprio rappresenta proprio in questo momento la sua proprio come quindi lui è dentro alla purezza del giglio la capacità di vibrare alto come un fiore ok ma anche quasi la fragilità del fiore no e quindi dentro molto fragile quindi si è dovuto creare questa corazza per non essere volne per non essere vulnerabile per non essere colpito va bene paura post mortem infernale andiamo all'inferno a cavolo vai all'inferno andiamo con walter 23 dove si mette walter è il primo il secondo il terzo siamo in fila indiana o siamo uno accanto all'altro allora uno accanto all'altro e lui si mette tra noi due che tutti e tre mano nella mano andiamo all'inferno vuole con noi si andiamo dove andiamo tutta una scena se allora nel secondo allora c'è l'ologramma interferenza di walter ok che rimane lì e noi andiamo oltre ok quindi ce la lasciamo alle spalle che guarda se che guarda sempre in direzione diciamo del primo universo no quindi liceo noi andiamo oltre è come se creassero uno spettacolo no quindi c'è una parte iniziale dove ci sono tutti questi interpreti che sono vestiti da da diavolo c'è che c'è come chiede tre vabbè comunque secondo me è satana si vestono si travestono da satana sono due da una parte due dall'altra fanno tutta una scena come se ci fosse della lava in mezzo e poi tutto rosso come se fossero fiamme no quindi mentre noi andiamo c'è tutta questa scena iniziale noi camminiamo e questo svanisce perché tutta una rappresentazione siamo l'inferno degli islamici occhio che ci sono le vergini ah no quel paradiso scusa allora ci sono fan vedere un sacco di donne senza al velo senza niente molto messe male sporche magere smagrite e sofferenti ma disponibili disponibili senza energia quindi alla fine non più no quello è quello che c'è in realtà non è realtà è la rappresentazione quello che che vogliono l'inferno dei buddisti non mi fanno allora mi dicono che la parola inferno non esiste per loro c'è un posto dove continui a girare in cerchio perché non hai raggiunto una certa consapevolezza e non puoi andare così ma continui ad andare in orizzontale ecco quindi è bruciato abbastanza karma quindi va in cerchio come se ci fosse un sentiero c'è tipo un enorme cerchio che potrebbe sembrare di legno enorme ok e poi un bordo sempre fatto come se ci fosse solo un passaggio scavato dentro un enorme cerchio di legno no quindi se tu se tu sei lì continua a girare così l'inferno di un ateo non c'è l'inferno di padre pio anche detto bdm e come anche detto vdm se vuoi è ma di lo tu che dici parolaccio di amm no non dico da non dire non parevo già lui è un po meno diciamo è molto simile a quello col fuoco ma non è meno bruciante nel senso ci sono le ceneri fumanti più nere e si sposta più verso molo ci devo dire la verità qui no quindi più ce li mettiamo siamo tutti e tre ci mettiamo tutti intorno questi inferni chiamiamone ad in dove si mette nadine in realtà di qui non c'è perché è un ologramma che hanno proiettato di là beh noi esigiamo che ci venga anche qui la din ok allora la proiettano di qua vicino davanti a noi c'è un muro vero dentro il muro c'è un interruttore come quelli delle case delle nonne proprio fisico fisico tirato in su e non quello determina l'accensione di tutti gli inferni onografici che si chiede ma walter di spegnere l'interruttore vediamo cosa succede ok tengono vanno via tutte le scene rimangono i capi tra virgolette e le varie interferenze di questo tipo che burattina vanno l'ologramma dietro se erano lì dietro e vabbè padre pio c'è proprio padre pio allora quello lì davanti era quello musulmano ok c'è questa questo umanoide che alla forma un po tondeggiante non proprio non c'è nel senso è umanoide ma è un po più rotondo e meno spigoloso rispetto a un mano mano ok e qui ha la testa verde verde un verdino chiaro verde quasi azzurro ok escono delle antenne tipo una cosa così questo qua è l'umanoide che controlla il gruppo di umanoidi sono fatti così che controllano tutta la parte religiosa musulmana quindi ha visto walter si paura post mortem dell'inferno è completamente infondata causa esoterica della paura di essere torturato ucciso proprio perché lui si è liberato quindi dalle sue vecchie interferenze militari segreti questa roba qui sì diciamo che è un po legata anche a questa cosa secondo universo perché come se lui si sentisse essendo stato in grado di liberarsi ha un po paura che che vengano che vengano a rivendicare la sua liberazione c'è che questi qua queste interferenze qua vogliano fargliela pagare perché lui è riuscito a liberarsi ecco quindi lui deve essere immobile e quindi se si riesce a muoversi lo bloccano violentemente proprio no quindi anche fisicamente quindi è come se lui profondamente lo sa di essere in grado di poter fare qualcosa di diverso ma riescono a tenere alta la sua paura in maniera tale che lui non lo faccia e quindi utilizzando la sua paura di dire della sofferenza riescono a tenerlo immobile e paura o rabbia ci ha parlato della paura si proprio perché è consapevole di potercela fare nasce poi questa rabbia di non farlo per non farlo liberarsi andare a fare ok quindi e poi come se in casa si sfogasse si sfogasse c'è io in eterico lo vedo proprio che picchia al muro urla con i familiari non so se in realtà lo fa ma in eterico sì quindi è proprio questa rabbia che che ha verso di sé e verso la sua diciamo il suo ambiente protetto non sa che lì nessuno gli può far male quindi può sfocare questa sua rabbia di non essere dell'incapacità di muoversi paura a causa sotterega della paura delle malattie del dolore allora vabbè del dolore della sofferenza in generale perché via proprio questo aggancio con questo no questo questo aggancio di queste paure questo aggancio col secondo universo è proprio la sofferenza non ha voglia di soffrire né fisicamente né emotivamente con l'idea che sia in pericolo di vita no di poter morire per queste cose ok l'idea che possa ammalarsi come sua madre perché sua madre l'ha obbligato a pregare mentre lei era malata è sempre un'idea che gli viene inculcata dalle interferenze o che non ha fatto nessun patto con nessuno ok in quel momento non ha scritto nulla quindi non si ammalerà perché ha pregato per sua mamma quindi questa cosa non è non è reale ma è proprio la paura della sofferenza perché gli viene detto che è così una volta ascoltava di metal abbia fatto una sessione ha capito ha evitato sentiva le voci una volta e hanno pure fatto con la roba lì che non voglio dire oggi ha dei pensieri non sente delle voci però ha dei pensieri come una memoria un ricordo se vuoi riuscire nella vita devi fare un patto con noi fatto patto col diavolo un accordo noi ti aiutiamo vieni da noi eccetera che cosa succede che cosa è se sono queste interferenze che lui si è creato queste interferenze mentali che sono proprio sentita mentali che sono proprio fatte giocando sulla sua tendenza ad avere paura appunto della sofferenza dell'inferno del diavolo ok utilizzando queste sue paure gli creano i pensieri che che può essere in pericolo quindi utilizzando le due cose la paura della sofferenza del pericolo e l'inferno il diavolo ok cercano di creargli questi ricordi che lui sentiva queste voci in realtà quello che lui sentiva non erano le voci ma era proprio l'interferenza cioè di solito le persone sentono l'effetto dell'interferenza no ma non è chiaro che cosa sia lui invece c'è per lui era proprio chiaro lui riesce a percepire perfettamente l'interferenza ecco e adesso non è più quella interferenza la che spingeva così tanto no ok adesso sono più come dicevamo prima c'è questa donna c'era questa donna ologramma ok e quindi l'energia femminile che arrivava un po più dedicata quindi era il ricordo di quelle voci lì lui ha l'85 per cento della suscettibilità ipnotica necessaria a portare a casa un'ipnosi quindi sente bene insomma se vede sente o avverte ma in qualche modo causa esoterica della fobia sociale incapacità di farsi rispettare di farsi valere da cui poi scaturisce la rabbia sì qui c'è anche tutta una parte un lettaggio familiare no che bisogna non si deve usarla la violenza che bisogna essere educati rispettosi no quindi è un po quello ingenuo genuino che cerca di stare comunque nel suo però alla fine poi cosa ha ottenuto soprattutto nei primi anni di vita no ha ottenuto l'effetto opposto di essere quello attaccato aggredito maltrattato ok questo ha fatto sì che lui si ritirasse sempre di più e quindi quello che la sua convinzione di ora è che è al sicuro solo nel focolare no solo a casa e questo fa sì che lui non si azzardi ha proprio non si azzardi ad agire magari l'idea ce l'ha di come fare di cosa fare ma non si permette proprio di farlo questo un po perché un omone e un po perché in famiglia molti hanno già sbagliato questo ecco mio da dove viene allora fanno prima l'hanno fatto anche con me vedo che hanno questi computer dove mettono dei dati che si collega che creano delle frequenze che si collegano ad alcune frasi ed alcuni argomenti ed alcune parole hanno intercettato le parole ma interferiscono con walter teo ma cioè sono legati a volte no a noi sì prima l'ha fatto anche con me proprio sul lavoro nostro perché cosa vogliono vogliono sapere a che livello a che punto siamo io non li ho autorizzati chi li ha autorizzati la mia anima una parte perché chiamala e chiedere perché ho autorizzato questo inciso che stiamo affrontando adesso invece di occuparci delle cose di walter volevo volevo farti vedere che comunque il lavoro che stai facendo è importante di tenerlo custodito di tenerlo prezioso e non fartelo rovinare ok già che ci sei chiedi chiedire perché io continuo a vedere scie chimiche nel cielo visto che non le autorizzate nel mio universo e nel mio attuale presente concentrano concentrano le scie chimiche nel tuo orizzonte come per cercare di far sì che tu non agisca più così fortemente cercando di convincerti che loro sono più forti sì ma perché tu cara ps di lucio vuoi questo perché so che tu continui invece a fare il resto e poi dimostrare stesso che ce la fai a sconfiggerli si è più una cosa di cui si è autoconvinto con gli anni primi anni di vita dove proprio vedeva che veniva maltrattato trattato male anche al lavoro perché lui era quello genuino quello che non reagiva e quindi diciamo come se si fosse un po autoconvinto che forse proprio così anche se lui lo sa profondamente che in realtà in grado di fare tutto ma è limitato si è creato tutte queste interferenze che lo che continuano a ripetere che non può farlo allora lui qui oggi è qua perché adesso basta adesso il passo di oggi è proprio ricordarsi giorno per giorno essendo centrato come lui è in grado di fare ricordarsi che tutto quello che gli arriva è semplice un semplicemente memorie e pensieri fatti per bloccarlo ma lui è in grado di fare tutto è in grado di fare tutto all'esterno senza dover usare la violenza e senza incontrare la violenza lui crea la sua realtà pacificamente l'entità mentali se le crei create lui no 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 certo la donna del secondo universo l'ha voluta lui e servente l'ha voluto lui in qualche modo lui con l'interruttore l'ha dimostrato se stesso è lui che definisce che mette la corrente al gioco se vuole letto la toglie la corrente come l'ha tolta all'ologramma dei vari inferni la toglie all'ologramma delle sue interferenze eteriche che toglie l'elettricità i suoi pensieri erano così belli quegli interruttori delle nonne che uscivano e proprio tu con l'indice attaccando andava in su davano una certa soddisfazione più materico bene portale aureo madre iscrivimi l'apertura del portale aureo allora sì come se uscisse dal portale aureo come se uscisse un tunnel come se fosse di vetro trasparente come se fosse di vetro un vetro un po sul violetto quindi come se uscisse un tunnel che si collega al portale proprio ok e c'è questo cerchio con questi di solito dipende dipende da chi c'è però vanno più o meno qualche gradino oppure proprio un rampa di gradini sempre fatti uguali sempre fatti di questo vetro violetto ok e e la porta è come come se fosse quella spesso io la vedo così non tutte le volte ma spesso sono quel se quelle aperture circolari che poi che spariscono poi astronave sì tipo così sempre fatto nello stesso materiale meno meccanica più stallone esatto e cosa vetrosa luminosa sì mamma dov'è in ginocchia a pregare chi prega in questo momento sta pregando la madonna sta facendo che un inconsario a mano mettiamogliere davanti no dopo tutti questi anni finalmente ti vedo dice bene le diamo l'informazione di tutto quello che avevo visto finora nella sessione non una vicca riassunto un trailer che però se quei trailer che vedi già il film c'è anche il pezzo dell'interruttore infatti svanisce la madonna svanisce cioè la mamma lo aziona sì perché perché ha visto farlo fa la vista ha visto valta che lo faceva e allora fa l'ha fatto anche lei e accendiamolo svaniscono anche il rosario e l'appoggio delle ginocchia quando lo spegne poi quando lo riaccende riappare tutto ok adesso l'accende la spegne dieci volte con tempo velocemente secondo i bambini notti o meno di simpson lo faceva in una puntata il senso spento acceso spunto l'accesso sito litico ma l'ha fatto adesso dice come se sentisse un vuoto c'è quindi tutto questo che cavolo l'ho fatto a fare ma in ginocchio ancora eh sì è lì così si è spento è sull'inginocchiatoio si è acceso si si scendeva si spegneva e adesso è un po spersa perché appunto sente questo vuoto che dice cosa spesa tutta questa energia a fare ci alziamo ce lo abbracciamo col figlione pensa che era talmente presa da questa roba religiosa che non si raccolta che era lì sì e lui le passa tutto quello che sa delle sessioni mhm 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 ok che succede raccontaci allora si sente più leggera sente meno in sente molto più leggera era incastrata in questa cosa di proprio questa fobia di dover sempre pregare per non sbagliare mai per non essere mai peccatrice per evitare di finire all'inferno ok quindi era proprio quindi il fatto che li abbiamo trasmesso tutte l'informazione che lei orali informazione ha capito che niente si sente più leggera adesso vediamo una bella vic senza nulla togliere a walter la vita più completa di una braccia di walter ora dice a walter vai vivi che ci sono tante cose belle di fuori ci sono anche altri disincarnati lì insieme a lei può essere un fratello di lei lo zio al terrore no un uomo sì allora uno zio di lei ed è legato che manca di morto più giovane non so un cugino vabbè un altro ok poi e poi ci sono un po di parenti in generale un po' di generazione sul 197 va bene la salutiamo non voglio aggiungere qualcosa a l'ex marito a walter lo guarda con tanto amore si è un po commossa no commossa no ma è proprio bella l'energia è proprio calorosa gli trasmette proprio tanto amore hanno vissuto altre vite insieme ne fa vedere un'altra dove lei era sempre la mamma lui sempre figlio maschio e un'altra dove erano due sorelle più vecchia sì quindi qualche modo hanno affinato il rapporto l'hanno già vissuto così e in questa hanno completato quale diciamo minimo obiettivo minimo non per sminuirlo ma sono comunque nella nel mare di informazioni che si possono imparare questo da un minimo una minima informazione una informazione limitata piccola cosa hanno imparato allora tutte e due ognuno con un aspetto un pochino diverso ma simile proprio questo sgancio dalla paura e della morte e della sofferenza il lavoro è stato quello lei è morta soffrendo ma ha avuto la possibilità con walter si è creata la possibilità con walter di vederlo da disincarnata quindi l'informazione è arrivata comunque prima di reincarnarsi e invece walter ha la possibilità di farlo ancora in vita quindi proprio il rielaborare questo sgancio dalla paura della morte e della sofferenza ma l'obiettivo insieme salutiamo e chiudiamo tutto sono andati tutti valtre che fa ha capito cosa ci dice sì allora ha capito ci fa ci fa vedere dove dove è ora no quindi intanto che lo spiega dice adesso mi ritrovo su un piano superiore c'è in eterico lui cammina su un piano superiore sotto ci sono la paura della sofferenza e della morte sotto ancora c'era l'energia nera dove si trovava prima ok nuovo step in assi non è in alto adesso andiamo al cluster che sappia però che dopo che facciamo questo lavoro ci sono due strade più o meno resterà a fare le stesse cose e piano piano qualcosa tornerà di simile con nuove interferenze che trovano nuove scamotage perché lui vuole che sia così piccole entità mentali che poi dopo un po crescono e siamo sempre un po lì quindi atteggiamento a rendevole qui e qui se che sento praticamente la mia voce atteggiamento a rendevole e non creativo o la creazione pura legge nella creazione non dell'attrazione darsi da fare mettersi in gioco subito da oggi e soprattutto da domani mattina in mille modi noi non possiamo dire come in mille modi sensati ma fanno anche lavoratissime azioni non c'è stato per vedere che non succede nulla ecco ciale esatto solo piccole cose ma che sto ecco ce l'hai tu in realtà è proprio questo l'aggancio dell'entità mentale collettiva perché e questo è un lavoro grosso c'è sganciare tutte le persone che sono agganciate alla alla paura della sofferenza e della morte e riuscire a fargli vedere come stiamo facendo con walter lavoro che stiamo facendo in questo momento è molto grande no quindi sono un sacco di persone agganciate a questa cosa che se riescono a percepire che possono liberarsi diciamo per l'entità e per grazie a cuore la sofferenza non me lo stavo ricordando non lo scusi per parlare perché mi sento la mia voce cinema padre tutti quelli della famiglia di walter e tutti questi qua con la vita simile a quella di walter pic di aggiornamento su quello che abbiamo fatto e su quello che sta per fare walter va adesso al cluster a cluster c'è quello che c'è e c'è anche un interruttore cosa vedi al cluster come contratti come contratti sono statuine di vario tipo quindi le varie statuine di cui abbiamo parlato quindi ecco le religiose quelle degli inferni quelle della della società che fa paura anche tutte queste statuine del dolore statuine della paura della rabbia e poi c'è l'interruttore e poi c'è l'interruttore che fa l'interruttore allora lui se schiaccia l'interruttore vengono tutti risucchiati nel portare definitiva se lo accende di nuovo allora mi fa vedere che lui potrebbe non avere più nulla accendendo nel senso che mi fa vedere che è come l'interruttore di svuotamento del cluster che lo può usare tutte le volte che vuole per svuotare il cluster bene può anche buttare l'interruttore e cluster sigillarlo con una sua creazione la prima creazione di walter qual è se lo fa se se si è un ventaglio energetico quindi parte da così da sotto piatto e man mano che lo apre aumenta sempre di più la vibrazione in tutto il cluster e rimane così rimane aperto con la vibrazione altissima la coda di pavone una ruota del pavone e l'interruttore dove è stato buttato nella nel portale definitivo avatar c'è qualcosa c'è uno spicchio molto denso la spina se anche lì c'è l'interruttore lo creiamo vediamo che succede se lo azioniamo ok viene ripulito tutto anche qua manda dentro anche l'interruttore nel portale definitivo qui crea una come se fosse una fiamma ossidica dire no la quella potenza lì di energia che vibra altissimo quindi tutto al posto dell'avatar c'è questa enorme fiamma di energia che vibra altissima molto bene con queste condizioni la donna nadine e serpenti ci sono no paura del controllo livello 5 corda abisso livello 7 vittima carnefice livello 3 no la hop di tenuta ora no paura abbia no impianti no paura dell'inferno esiste ancora di avere una fine vita infernale di provare dolore no di essere torturato per riso no delle malattie no deciso no che la gente dica di lui che non vale nulla no che nessuno lo rispetta no che va in giro e tutti lo urtano con la spalla no chi c'è chi è nato walter walter con la sua essenza è tutto intorno è tutto bianco tutto libero per creare la sua vita ideale che perso il suo benessere bene allora c'è una porta lui la apre e va la pre va e c'è ci sono un sacco di persone che lo accolgono che lo accolgono calorosamente che gli offrono tutto quello che lui vuole sono tanti casi nella vita o sì 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 è tutto quello che lui tutte le possibilità che lui può scegliere di creare nella sua vita però sono tutti non c'è la rabbia non c'è la violenza non c'è il cattivo umore ecco quello che lui può scegliere ora è tutto possiamo definire suddividere questi questi queste persone in categorie come lavoro vita sociale e altro sì come se ci fosse come se seguisse un percorso mi fa cioè mi fa proprio vedere che all'inizio ci sono piccole azioni che lui può scegliere nella vita sociale che ne so tipo andare a bere un caffè e poi magari invece pranzare con qualcuno ok e dopo questi piccoli step a un'immensa distesa di scelta lavorativa e ok e in seguito più in là c'è proprio un'immensa distesa di scelta dove vivere che può essere o lì o anche in altri posti ci sono infinite possibilità bene vibrazione 645 miliardi in questo cavolo consapevolezza 204 ps 69 vite 1321 cervello 10 suscettibilità ipnotica 95 molto molto bene manca solo il messaggio di walter a se stesso con o senza sottofondo musicale senza sottofondo musicale mi fa sentire la natura quindi magari quello quello potrebbe se suoi della natura però senza la musica è solo della natura quando l'ideale sarebbe andare nella natura ma se magari deve come allenamento anche a casa può sentire i suoni della natura e basta bosco uccellini ma si acqua ma qua ciume mare sì che lì esatto il messaggio è rimani sul piano dove sei concentrati 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 quindi fai le tue azioni per centrarti così riesce a vibrare alto ea fare le cose nella tua centratura ecco quindi senza farti interferire dalle dalle tentativi esterni di interferenza come lo vedi come all'inizio no 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 adesso lo vedo molto concentrata a creare la sua realtà quindi è concentrato proprio a creare la sua realtà ma è la scrivania in piedi e in piedi su questo piano che è bianco ok è proprio quasi come se creasse col pensiero no quindi fai pensieri e si materializzano le cose intorno il vecchio walter fotografia nera su fondo nero c'è ancora no 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 ce ne frega ancora no ancora no esatto non ci deve c'è quella parte lì non c'è più basta informazione che è andata via cioè c'è se l'informazione e non possiamo dire che non ce ne frega niente di chi ha vinto quest'anno l'anno scorso la champions league con lo stesso me ne freghismo possiamo dire che non ce ne frega niente di quella fotografia c'è quindi se quella fotografia è al moma di new york come nuova arte contemporanea o è finita in una fogna è diventata la tenda dei top dei topi ratti di parigi ce ne frega in entrambi i casi qualcosa no nel caso che la fotografia abbia molto successo o che abbia nessun successo no 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 infatti neanche se aveva molto successo se ha molto successo con la fotografia ci fa incazzare no non ci deve interessare proprio nuova fotografia c'è o anche quelle superato è superata bravo nel senso non c'è staticità quindi è sempre un divenire sempre dinamico quindi è sempre un valter ogni secondo è un valter diverso che va verso la sua vita quindi nessuna fotografia quindi una fotografia viva sì e valte e walter non c'è più la fotografia la fotografia diventa walter e valte lo salutiamo ci saluta se ci ringrazia così finale vibrazione al 781 molto intento a creare col pensiero che adesso ha molte idee si si bene bene allora ecco ecco equ